Tanti auguri a Carlo Ancellotti per questo traguardo importante della vita, mi fa piacere che lo viva nella nostra città, nel senso di allenatore del Napoli e di un innamorato di Napoli, perché io ho sentito sempre esprimere parole lusinghire per la nostra città e questo rende ancora più forte il suo legame con Napoli e non solo con la squadra, quindi tanti auguri misteri.